La lingua che vende al cuore resta sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. SIC, la società editrice, è una società che ha inglobato dei mezzi di comunicazione che hanno 55 anni di storia nel momento in cui ha deciso di sviluppare una strategia web molto più provinciale, molto più capillare. Alessandria News ufficialmente nasce nel 2011 a giugno, contestualmente sostanzialmente la strategia parte anche su tutti gli altri centrozone della provincia soprattutto per ragioni identitarie, quando si parla di provincia di Alessandria non si parla di un'identità unica per cui ci sembrava intelligente, interessante e strategicamente corretto avere un'interfaccia, quindi un colore, una selezione di contenuti un'identità differente per ogni singolo territorio della provincia. Funziona, nel senso che da 5-6 anni stiamo crescendo da tutti i punti di vista, i feedback dalle istituzioni, dal settore privato ma soprattutto quello dai cittadini e quindi lettori sono molto positivi.